Siamo in uno studio di animazione italiano, ci occupiamo principalmente di stop motion. Realizziamo video per la pubblicità, lungometraggi, serie tv. La stop motion è una tecnica che permette di muovere oggetti, personaggi, ma soprattutto dargli vita, renderli reali, farli muovere. Qui ci sono degli esempi di alcuni dei personaggi che abbiamo costruito, in questo caso abbiamo delle facce che si vanno a sostituire per ottenere tutte le espressioni. Questo è un esempio di stampa 3D che noi utilizziamo parecchio, allo stesso tempo però utilizziamo anche tecniche più tradizionali dove abbiamo delle facce di silicone che vengono animate a passo 1 manualmente perché hanno un'armatura interna. Il Giappone come paese è un punto di riferimento per l'animazione, lo è stato per tutti noi fin da quando abbiamo iniziato questo lavoro. I feedback che abbiamo avuto sono stati ottimi fino adesso, per cui siamo molto contenti di come sta andando, anche grazie alla Camera di Commercio che ci ha aiutato parecchio. Siamo convinti che ogni cosa attorno a noi di oggetti e materiali possa avere un potenziale per esprimere un'idea in modo migliore. Ciao, grazie.